benvenuti sul canale bg passione games ragazzi nuovo episodio il secondo della settimana dedicato alla carriera su fc 24 carriera allenatore mister allegria ha preso una bella scossa nell'ultimo episodio tra le altre cose ragazzi mi avete abbandonato perché ho visto che l'ultimo episodio così come quello della carriera giocatore ha avuto pochissime visualizzazioni va beh cercheremo di riprendere la fiducia negli amici della community vi capisco perché oggettivamente sono stati quello del lunedì martedì due episodi veramente strani per il semplice motivo che ho riscontrato delle come posso dire due squadre o meglio quattro squadre perché due con la carriera giocatore due con la carriera allenatore che avevano non so una sorta di come dire di gioco talmente esagerato pressing alto tocchi di prima senza grossi problemi cose veramente che fino a questo momento la carriera non abbiamo visto è vero che per la carriera giocatore qualche parametro ritoccato ovviamente cercando di rendere il gioco un pochino meno monotono perché insomma era tutto vi ricordate no si era riusciti a prendere solo un gol e invece non andava bene ma per la carriera giocatore allenatore invece le stazze degli amici del gruppo di facebook che appunto si dedicano a così a pensare quelle che sono appunto le strategie oltre che le impostazioni da dare sia alla cpu che all'utente cioè al giocatore sembravano saltate è successo appunto che per quanto riguarda la carriera allenatore siamo usciti dalla coppa dalla dalle mire hits e insomma per certi versi mi dispiace un po e poi abbiamo perso anche la partita di campionato quindi siamo tornati a essere sconfitti ma questa sconfitta ci ha tagliato le gambe perché perché di fatto ci ha intanto abbassiamo un po l'audio ci ha praticamente fatto perdere il primo posto l'unica nota positiva è questo ragazzino garrido nuovo acquisto targato mister allegria un giovane di 18 19 anni preso dalla cantera del barca se non sbaglio il quale ha debuttato con il gol ma è l'unico nota positiva come giustamente ha detto anche l'amico gabriele allora solite due partite ragazzi settimana prossima cambierà qualche cosa ve lo dirò ve lo racconterò domani le week le domani ci sarà le week le perché la settimana scorsa l'avevo registrato poi c'era problemi di audio ho fatto un po di asino questa settimana invece lo registriamo e quindi vi racconterò un pochino quindi sarà un magari week le un pochino più lungo perché ne parleremo di due settimane ma soprattutto vi dirò appunto quello che succederà la settimana prossima quindi domani alle 10 mi raccomando sintonizzatelo comunque guardatelo quando vi pare anche trovate nella playlist banda le cianci avanziamo giochiamo contro questo plymont non so se si scrive plymont squadra che a 16 punti vediamoci la classifica allora porca miseria lits ci ha agganciati non ci ha superati mi correggo ci ha agganciati a 58 punti dopo 27 partite e noi appunto abbiamo subito la terza sconfitta un poco è però ragazzi noi bisogna salire però la classifica è corta perché per ora siamo appunto a tre punti dal south tempo ciao tempo che tra l'altro se non sbaglio c'ha non so se era questa squadra che ci ha sconfitto nella emirate e poi abbiamo otto punti dalla l'incestor 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 come lo dico io il city e e poi tutte le altre ma insomma non bisogna vedersi non bisogna arrivare tra primi due non bisogna evitiamo i playoff evitiamo perché io a differenza delle altre stagioni dove la prima stagione sostanzialmente era di prova poi nella seconda saliremo di si saliva di categoria in questa io voglio salire subito in categoria quindi voglio subito arrivare in premier e cercare di capire magari se c'è la possibilità anche cosa che non ho mai fatto nelle carriere precedenti se non una volta quando appunto bazzicavo la serie a tedesca di cambiare squadra vediamo vediamo un po delle cose che possano succedere quindi noi per ora ci dedichiamo al campionato anche se abbiamo sempre la carabau attiva e giochiamo questa partita allora vediamo un po al solito sempre solito discorso 4141 squadra un po come dire sto mediano molto molto diciamo propenso alla difensiva idea tattica nella fase di non possesso la squadra si dipende molto bassa lasciando iniziativa agli avversari finché la palla non si trova nella propria tre quarti difensiva in attesa il momento giusto per intervenire e riconquistare il possesso in attacco invece si affida a costruzione lenta cercando di mantenere sempre un assetto ordinato quindi attende inserimenti gli attaccanti per servirli con precisi filtranti tra le linee e scavalcare la difesa giocatore chiave in attacco è un certo randle andiamoci a vedere anche il se c'è qualche giocatore che noi conosciamo questa attaccante qui mustafa bundu che però non segna mai non segna mai 8 presenze 0 gol è un attaccante qui bomber chi è bombe è appunto lui ryan hardy che è il giocatore forse più rappresentativo con 5 reddit ma insomma è una squadra questa un po un po diciamo che noi siamo un pochino tra virgolette in depressione di risultati cioè siamo messi un po maluccio però potrebbe essere l'occasione per tornare allora calcio d'inizio vediamo un attimino noi giochiamo con la squadra titolare sostanzialmente a dune no 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 gestione squad dune è stato tra le altre cose ha fatto veramente espulso quindi mettiamoci duke però dune bisogna levarlo di torno e io ci metto io metto mettiamoci un altro difensore non ce l'abbiamo è qui non ci abbiamo una mappa mettiamoci no lui no mettiamoci lì callback così carrido che poi entrerà poi c'è un fox mettiamo anche fox al posto di boiata che è troppo stanco sennò poi si fa veramente le figurette donzel pavoletti callback intanto ok giochiamo così giochiamo squadra molto stanca vedete ci sono accruciatori sono stanchi anche mousset io ragazzi metterei il pavo va al posto di mousset lo facciamo un po riposare partiamo con il pavo dai ragazzi questa va vinta questa parte ah non ho visto mi sembra verde sì quindi loro giochiamo in casa fuori casa non ho vista mi sembra fuori casa cerchiamo di ritornare alla vittoria bella questa immagine col terreno cerchiamo di tornare a vittoria e di riacquistare il nostro pubblico fedele e sempre presente eh ragazzi io ringrazierò sempre i ragazzi che commentano che vedano le nostre prestazioni vediamo un po se anche questa squadra oh no si sembra sia rallentato a sbuccione tanto ragazzi questa stagione ragazzi non quest'anno cercheremo di fare bravo c'è il pavo no subito 1 a 0 siamo ritornati siamo ritornati siamo ritornati non so cosa è successo la settimana e l'inizio di settimana il lunedì martedì una veramente una carriera sia quella del giocatore che dell'allenatore ma non lo so non so cosa è successo a qui grande grande veramente e poi il pavo non sbaglia il giocatore che ha anche su fc un tiro pazzesco qui non assomiglia per niente comunque l'unica cosa che assomiglia alla balba che si fa la balba non è più il pavo tanto noi bravo test ma we look che stassata che stassata chi l'ha fatto daiola che stassata bella stazione chi l'ha fatto corona corona ma che stassata bella azione forse c'è la squadra che avevamo affrontato non era poi bravo è questa partita ragazzi siamo un'altra squadra con l'aiuto dei propri compagni occasione d'oro questa pericolo vale gioco mamma mia we look c'è nessuno tutto l'ora no fox bravo bravo ah ha scelto bene il tempo dix tutto all'immortacci bravissimo allora Begovic ragazzi nooo stavo parlando bene di te stavo parlando che cacchiata eh ma loro non attaccano meno male fanno tutti questi stanno facendo quello che era scritto eh cosa che invece nelle avversarie abbiamo trovato lunedì e martedì ma soprattutto martedì perché lunedì non si può vederli da tattica bravo e gioicchiano gioicchiano ma no allora nooo mamma mia signore ma che si fate mamma mia siamo sempre malaticci siamo in convalescenza portiere bravo Begovic il tuo metro e il 96 non so se il metro e il 96 allora ragazzi abbiamo cominciato bene meno male mi sono due gol però poi porca miseria con loro con loro passettini ta 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 tocchettini di tocchettini ci hanno rotto i gabasisi veramente comunque siamo avanti siamo avanti io lascerei così per ora la squadra 2 a 0 mi erai meritato anche se alla fine del primo tempo abbiamo subito vai pal bravo mamma mia corona quando ci si mette mamma mia è moscio come oside dicevo corona quando ci si mette è strepitoso quando ci si mette sopra la tramite a campo occasione importante no ragazzi will chi esce Dejola Donzel ce la fa mai c'è c'è un cambio dunque e Dejola ragazzi dura bravo oh ma ecce sotto buon portiere anche questo Arsenal che aveva individuato questo giocatore come possibile rinforzo in quel reparto nelle ultime ore l'accelerazione decisiva questa è una gran palla Piere no se ti faceva girare poi ti dava un sigaro lo fumavi e poi tiravi ma alcune volte all'io la difesa nostra ballicchia non c'è capello lì addio eh ma si bloccano queste Willock ce la fa più Armstrong si bloccano porca miseria porca miseria bravo c'è da solo Armstrong sfrutta la velocità tua eh mamma mia che mamma mia mamma bravissimo insisti insisti pavo poi dopo se no vai a fa la doccia sotto sotto oh fallaccio insisti corona insisti no meno male non si ferma sotto ragazzi questi toccano palla non si tocca palla bravo loro giuicchiano eh però vai corona vai corona vuoi un sacco di sordi sfruttalo lo farò mamma 3 a 0 siamo tornati finalmente alla vittoria dix questo è il suo gol però ragazzi quanta sofferenza centrocampo centrocampo inesistente inesistente romo non c'è assente assente allora io mi dico se sei assente chiedimi di stare un po' in panchina chiedimi un riposo io te l'ho dato ti sei fatto l'allenamento hai fatto tutto ma non me lo chiedi non agiamo più sul calciomercato perché non ho voglia di però vedete qui non si tocca palla questo titicaca come era nelle caratteristiche tra le altre cose il mister lo sapeva pressiamo alti oh bravo donze possesso palla ridaglielo bravissimo vai sapo nome stranissimo pallacchi provaci uuuu ci ha battata di pavoletti per cercare la doppietta chi esce no no boiata no boiata fallo boiato tutti pensi siamo boiata io chiamo il boia abbiamo perso anche il cesto è un attacco non l'abbiamo più fatto mettere il bimbo nella prossima si farà giocar titolare oh siamo tornati nella vittoria 3 a 0 secco 3 a 0 ma ragazzi questo 3 a 0 non è non è da così diciamo evidente a giochettone non è così evidente come sempre quindi attenzione 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 il QPR non è ancora guarito abbiamo fatto 3 gol probabilmente abbiamo trovato una difesa veramente diciamo scarsa però loro nel loro possesso palla ci hanno fatta a mattina quindi attenzione attenzione non è detta comunque sono andati in gol Corona Dix e il Pavo allora io direi ora tanto avanti no che l'intervista qui i suoi da campi non hanno ancora giocato era in anticipo mi va bene allora tanto rientra il difensore che era che era diciamo scarruffato mi dico io io non capisco questa cosa comunque va bene io voglio giocare così allora avanza ora giochiamo oh col Middlesbrough questa è una bella partita attenzione perché incominciano le partite un po' più più difficili offerta nella squadra di chi è Ayala David Ayala 3 milioni più per allora no è disposto a offrire David Ayala più un conguaglio di 3 milioni per Cale andiamo un po' io direi va bene perché lui lo volevo tra virgolette cedere e ci dà 3 milioni e 100 più questo Cale è chiesto Cale allora quindi il volo di mercato cosa ne è teneremente che può strappare un buon accordo stipendio vale 5 tra i 3 e 30 luci danno invece la squadra tende al free net che mai parte dello scambio il volo di mercato di Cale oscilla o free net come parte dello scambio David Ayala ma David Ayala cos'è cos'è eh David Ayala vedi i giocatori di scambio vediamo chi è è un cdc che potrebbe farci comodo eh velocità equilibrio 84 potrebbe farci comodo ragazzi eh se lo vogliano liberare un giovane di 21 anni che potrebbe prendere al centrocampo a posto suo lui è un trequartista noi non giochiamo agilità 76 elevazione 60 forza 49 quindi una mezza una mezza artuccia equilibrio 86 resistenza poco potrebbe giocare nel secondo tempo controllo palla 73 ma senti sai cosa io direi accetta l'offerta basta ho detto accetta no accetta l'offerta ho detto cavolo accetta l'offerta vabbè vediamo se si spunta qualche soldo in più e là il procuratore chi è quello lì che sei il bimbo eh sì ah giusto giusto stipendio attuale ok eh turn over va bene nella panchina ogni settimana sì panchini ci porto dai aiala magnifico certo devi crescere 68 lo facciamo crescere chiede a 4 anni vabbè ah che taglio c'ha taglio un po' partio là accettiamo perdiamo un bel giocatore attenzione eh attenzione però questo potremmo un pochino creare no ignora niente niente clausola stipendio 6 e 4 bonus guardo 56 no vediamo un bonus contro offerta noi bonus a gol 5 no allora rimuovi bonus e avanza l'offerta e non voglio vedere il bonus ah abbiamo sbagliato ovviamente gli abbiamo dato il bonus gaccio che bischeri babbia cioè vabbè lasciamo perdere lasciamo perdere abbiamo vabbè ok lo stipendio è 6.400 abbiamo risparmiato non abbiamo fatto una grande operazione eh ve lo dico non ve lo dico eh ma non abbiamo fatto una grande operazione perché valore 1.8 stipendio 9.3 claudio c'è solo ok e la solferra non c'è solo accettare quindi un milione 8 è il suo valore sommato a quello che era più o meno andava ai 5 milioni e mezzo poi lo stipendio va bene va bene lei invece aveva lo stipendio vedete abbiamo risparmiato lo stipendio 5 ci danno 300 più 1.8 fa 4 e 100 eh ci danno meno rispetto a 5.6 che l'abbiamo rifiutato però ci abbiamo dato un giocatore che probabilmente non avremmo ok già tre giocatore taylor allora mister ci sono rimasto male non ho giocato ma sono vinto che avrei potuto far bene continuo a lavorare il soldo allora di solito mi piace davanti ma credo che ha potuto fare difenza la squadra non è l'avversario giusto boiata non mi è piaciuto mi avevo preso nella scena di riposo invece mi hanno mandato in capo stavo riscute per il big match tutte le mi dicevano molto di non giocare oggi questo non vedete che avete intenzione di impiazzarmi solo ok grazie per il chiarimento vabbè ah giugno già 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 c'è giugno che brontola no eccolo qua ok di solito mi piaceva ma credo che ha avuto la partita contro la squadra dell'undis vabbè effettivamente non è male nei giocatori però andiamo avanti ragazzi allora vediamo suggeriti per la scelta allora abbiamo notato che per l'hanno scelto per la prossima partita contro la squadra è poco carismatico suggerirei di consegnare la fascia da Leonardo Pavoletti le cui doti da leader avranno un impatto posidioso vai sulla formazione offerta per il prezzo ci sono un po' di roba la squadra del Fleyton Town sta a acquisire Denix Novak prezzo con il dito di scatto fai vedere chi è questo Denix Novak vabbè sì sì perché lo devo rifiutare offerta terzo del dito di scatto delega riscatto perso in un anno non vendi nemmeno di ok va bene allora siamo un po' informazioni titolari ma io dico chi è ora il capitano scusa il capitano chi è è Deiola io invece metterei informazioni suggerite Garrido così Deiola si riposa un po' e poi il capitano sì ok allora abbiamo un po' rosa gestione squadra capitano come si fa a mettere il capitano tanto si è messo Garrido al posto di Deiola anzi direi Garrido al posto di lui e qui io metterei Deiola facciamo un po' riposare Romo perché non mi piace poi davanti lasciamolo così non diamo retta alla informativa vai non diamo retta non gli si dà retta assolutamente uberosa andiamo un po' per dargli il capitano come si fa Rom Garrido piano di crescere schemi di squadra blocco di offerte vabbè allora seconda partita Middlesbrug ragazzi Middlesbrug relazione allora Middlesbrug gioca con Hope davanti che è giocatore classico poi questa è una bella squadra c'è Clark poi ha Greenwood non so se è quel Greenwood che ha bazzicato spesso e volentieri la serie A inglese poi c'è Duncan uuu ex Viola un nostro pallino che insomma è riuscito a prendere poi c'è un altro giocatore Latte Latte che se non sbaglio giocava nella Cremonese bella squadra ragazzi Duncan è andata a giocare nel Middlesbrug l'attacco 68 72 centrocampo 71 però è una squadra in discesa libera nell'ultimo 5 partite 3 sconfitte una vittoria un pareggio l'ultima è del pareggio idea tattica allora difesa adotta un assetto ordinato nella fase non possesso ritrando il proprio pariscente in attesa del momento giusto per pressare e conquistare palla e ripartire quindi aspetta un attacco con sussure lenta quindi come quell'altro come quegli altri va bene vediamo se c'è qualche giocatore che conosciamo allora Emanuele Latte Emanuele Latte Latte poi chi c'è cosa giova mai Greenwood c'è arrivato ora Duncan ha fatto solo una partita deve essere nuovo acquisto oppure oppure non lo so comunque nuovo acquisto probabilmente bella squadra e poi Greenwood e questo infatti è il questo giocatore 16 gol è il bomber più bomber anche di noi Greenwood va bu va calcio d'inizio vediamo un po' la maglia va bene noi giochiamo Garrido ragazzi abbiamo messo Garrido dal primo minuto giocatore che ci è piaciuto l'unico nell'episodio precedente che ci è piaciuto questa è una bella partita ragazzi seguitela Sam migliore campionato lui è il bomber della del Middlesbrough ma soprattutto è capo campioniere della divisione in cui noi giochiamo quindi nella serie B inglese nella championship si parte si parte vai bimbi a bollore è la difesa ragazzi con questo con coso lì con rasta spettacolo vai sciù vai corona vai lo vedi fuori gioco fuori gioco ma Musetti stai veramente facendo una stai picchiata pallo che buca vai il culo vai porca miseria porca miseria nascondiamoci che nell'ultima varia di campiato in casa abbiamo perso 5 a 0 e il pubblico però è tornato uguale non ci ha contestato forse perché abbiamo vinto l'ultima 3 a 0 porca miseria che gol si è preso lei ha sbagliato il terzino chi ha fatto gol aie Greenwood Bordam vai vai che lui ha sbagliato prima mamma mia mamma mia Meno male il portiere è uscito ma un po' così come è uscito sono stai piccolo sono prini sono in piena corsa per il titolo che occasione deve approfittare cosa ha preso il portiere mi porta male Dani sta buono stai zitto grande portiere grande portiere si comincia via però perlomeno si gioca anche si sta perdendo però non è in clamorosa come l'altro episodio portiere super in quella circostanza e ripida tutte via ripida tutte il protagonista è portiere del Midas Group Midas Group dai ragazzi dalla corona su Wilcock lui angolo angolo Pogliata ha spazio no ma porca miseria ripida tutte ora loro fanno un tiro ragazzi questi portieri lì a 3-9 ci siamo bravo vai 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 cistici credici fallo bravo mamma mia mamma mia porca miseria mamma mia Luleo l'ha prese tutte ragazzi l'ha prese tutte come si fa Giovancurosi l'ha prese tutte però noi ci siamo dai si perde una 0 con una svista clamorosa una svista clamorosa con del terzino nostro che ha lasciato andare vabbè vai giù si riprendano io sono convinto che si riesce a fare il primo gol poi dopo eh si si riesce gridbo ragazzi altra roba io credo che sia quello che bazzicava la serie A aio bravo le voci su un possibile interessamento sono a stare spazzate via dall'accelerazione dunque dalla notizia ufficiale del suo arrivo e della sua pietra è giovane ma anche vero che ha già dimostrato il fatto io ne ho visti pochi a la sua età fare le stesse cose senza considerare che ancora ha anche i margini di miglioramento sotto sotto aggredire vai bimbo che c'ha 18 19 corri mamma mia mamma mia mamma De Iola via Romo ma cioè ragazzi questo ventina fa fa danni eh se era 2-0 era finita vai Carrito bravo finta vai Carrito vai vai bimbo nooo fancuffia dai che palla che palla ripiglia tutte Armstrong via Armstrong in campo vedete ma ragazzi ma così poi ripiglia tutte poi ragazzi il portiere li ha salvato loro c'era lui Birmingham da quello che si è visto nelle precedenti uscite ci attendo una partita nooo nooo due tiri due gol due tiri due gol non ci credo un'altra sconfitta non ci credo Garrito non ce la fa più un'altra sconfitta non ci credo mamma mia non ci posso che ma è un'era forigione ma ragazzi il portiere di loro non bravo di più siamo scoppiati siamo scoppiati e guarda questo vice anche il culo a sotto vertice in piede si mette in proprio conclusione respinta pericolo che svanisce dai proviamoci nooo mancano dieci minuti alla fine della gara stiamo sempre in convalescenza però ragazzi questa partita lì nooo questa partita lì oh il pavo dai che ci fa due golle in due minuti questa partita lì ragazzi non abbiamo meritato di perdere dai dagliela eh eh loro giovano sul belluto sul belluto recupera un pallone importante in attacco Luis Romo niente via ragazzi l'abbiamo persa ma io poi dove andavo voglio vedere quanti tiri si è fatto perché ragazzi questo ha fatto Miraule 180 secondi da recuperare finita finita ragazzi abbiamo riperso in casa porca miseria due a zero aaaah ma come si fa a perdere porca ma cioè portiere ha fatto veramente parate strepitose noi abbiamo tirato ragazzi abbiamo giocato abbiamo avuto sfortuna ma io non so a che dire non so a che dire ragazzi che Grieve ha fatto un bel gol ma parliamoci chiaro i gol sono nati dai nostri errori errori difensivi due errori e due gol poi abbiamo trovato davanti il portiere che voglio vedere le statistiche no perché sono curioso e poi dopo ci salutiamo dati partita allora 9 tiri contro 5 ora io dico 9 tiri sono tutti tiri in porta 9 tiri in porta nemmeno un gol ragazzi loro 5 tiri 3 2 gol e manca a pochino ce ne facevano il terzo perciò dei passaggi 86 passaggi tentati 80 cioè noi non possiamo non possiamo dire che non abbiamo giocato abbiamo giocato abbiamo trovato davanti poi il possesso di palla noi 53 loro 47 abbiamo trovato davanti una signora squadra ma soprattutto un grande un grande portiere ragazzi io direi di chiudere qui ci vediamo ovviamente la settimana prossima cambierò un po' di nuovo il palinzesto per dar modo alla nuova serie che ve lo annuncio diciamo domani ve lo racconterò partirà e niente ragazzi io che dire aspetto i vostri commenti se c'è qualcosa che secondo voi è da mettere a posto cambiare il modulo non lo so anche perché ho paura che tutto ciò di buono fatto fino a ora potrebbe dare andare in fumo cosa che non vorrei perché ripeto in questa prima stagione voglio salire subito in preme league ragazzi io vi saluto vi do appuntamento alle prossime ciao domani week le ore 10 mi raccomando perché tanta tanta roba al fuoco ciao 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 Grazie per la visione!